Grazie a tutti. Per quanto riguarda gli ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda la Santissima Parola di Dio, ebbene, ci ritroviamo in questo sito web fallace alla quale asserisce, se non mi sbaglio siamo già alla settima puntata, se così la vogliamo chiamare, di questo sito web fallace dove asserisce che praticamente nella Santissima Parola di Dio esistono delle contraddizioni, esistono degli sbagli umani. Mentre noi sappiamo che non è così e quindi noi siamo giustamente qui per sgridare queste persone affinché si possono piegare le ginocchia e possono convertirsi una volta per tutte al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo che è benedetto in eterno. Amen. Bene, e di che cosa parliamo oggi? Oggi parleremo di un argomento molto ma molto delicato, quindi prestate molta attenzione perché andremo, scaveremo proprio nelle profondità, nel tesoro più bello che si possa avere, e questo tesoro che noi abbiamo tra le nostre mani è la Sacra Bibbia. Quindi, vediamo prima di tutto che di cosa questo sito web fallace accusa la Santissima Parola di Dio. Bene, lo potete già vedere che qua, praticamente sul titolo dice, Gesù sarebbe stato chiamato Nazareno perché è residente a Nazareth? E continua, nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 2 capo verso 23 si legge che Giuseppe con Gesù venne ad abitare in una città detta Nazareth affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe stato chiamato Nazareno. Questa citazione è difficile da far digerire ai sedicendi cristiani perché in realtà non c'è nemmeno uno dei profeti dell'Antico Testamento che lo dice. Questo lo dici tu, ma a mo' ti faccio vedere che ti combino. Siamo di fronte all'ennesimo errore. Chi ha sbagliato? Matteo? Oppure manca il libro dove sarebbe registrata la profezia? I sedicendi cristiani devono trovare una spiegazione. Cosa si potranno mai inventare? Noi non ci inventiamo niente. Perché il mio motto è sempre lo stesso. La Bibbia si spiega da sola. Vuoi vedere come te la faccio spiegare subito da sola la Bibbia? E' inutile che io vada avanti qua. E' inutile che io qua vada avanti a leggere. Perdo solo tempo. Sono solamente degli insulti. E via discorrendo. Quindi io non perdo tempo, vado a lecciarle e vado avanti con la spiegazione che la Bibbia stessa ti dà. Come ho già detto, nella prefazione, esistono uomini che vogliono far credere che sono atei, ma bensì non lo sono. Piuttosto sono uomini di fede, delle dottrine sataniche, come l'agnosi, satanismo, new age, eccetera. Questi uomini, che tentano con tutte le loro forze di sminuire e rendere fallace la santissima parola di Dio, vanno trovando il pelo nell'uovo, o per meglio dire, biblicamente, cercano la pagliuzza nell'occhio del proprio fratello, posando tutta la loro fede sulla supposta mancanza di prova, fra l'altro fondata sull'ignoranza. In questo caso, in Matteo a capitolo 2, versetto 23, dove secondo loro non esiste nessun profeta nell'Antico Testamento che abbia profetizzato che il Signore Gesù sarà chiamato il Nazareno. Quello che mi fa più specie è che per loro è fondamentale questa mancanza. Anche ammesso che esiste, non vedono o fanno finta di non vedere che a loro disposizione hanno migliaia di prove, profezie, realtà scientifiche, archeologia, linguistica, storia e chi più ne ha più ne metta, che dimostrano l'infallibilità della parola di Dio. E questo sta a dimostrare quando gli uomini siano ribelli e la ribellione non trova nessun perdono. Anche se facendo finta che la profezia non si trovasse nell'Antico Testamento, il problema non si porrebbe. Per fare un esempio, anche la profezia di Enoch non si trova nell'Antico Testamento, ma non per questo cessa di essere una profezia. E dove troviamo questa affermazione? La troviamo in Giuda al capitolo 14, dove dice Anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo Ecco, il Signore è venuto con le sue sante miliadi. A chi si rivolgeva Enoch? Certamente e sicuramente a quello che poi è avvenuto in seguito, alla prima venuta del Signore Gesù Cristo. Allo stesso e identico modo, se la profezia di Matteo capitolo 2, versetto 23 non si trovasse nell'Antico Testamento, ciò significa che si trova altrove. Ebbè, dove sta il problema? Cessa la Bibbia di essere verace per questo? E tutte le migliaia di profezie adempiute fino ad oggi si vanno a farsi friggere? Assolutamente no. Pertanto, questi atei di buona fede che proclamano questo sono solo destinati all'ira di Dio. Il problema di Matteo capitolo 2, versetto 23 è articolatissimo per un'infinità di motivi e adesso li vedremo insieme. Intanto, abbiamo il Vangelo di Matteo che è l'unico Vangelo che è stato scritto in aramaico per chi non lo sapesse e questo lo apprendiamo sia dai padri della Chiesa che da coloro che studiano la linguistica biblica. Pertanto, il Vangelo di Matteo è stata fatta dalla traduzione dell'aramaico però quello di Israele, non della Siria che ha dei caratteri completamente diversi. Il vero non è mai stato trovato. Questo comporta che Matteo ha cercato di fare dei giochi di parole che è riportato in greco hanno perso completamente il senso ma veniamo al dunque. Intanto, il passo non dice come ha detto il profeta al singolare ma come hanno detto i profeti al plurale quindi la spiegazione potrebbe posare su più verità. Quella già detta, ovvero potrebbe essere una profezia fuori dal canone infatti, nell'Antico Testamento troviamo un'infinità di profeti senza nome o forse vi è spuggito questo particolare e vi riporto qui, in seguito alcuni dei tantissimi esempi. In Prima Samuele, al capitolo 10, al versetto 10 dice Appena giunsero a Chibea una schiera di profeti si fece incontro a Saul allora lo Spirito di Dio lo investì ed egli si mise a profetizzare in mezzo a loro. In questo versetto cosa abbiamo capito? Abbiamo subito appreso che questa schiera di profeti non hanno nessun nome non si sa chi sono il Signore non ci ha fatto sapere i nomi di questi profeti e poi abbiamo anche visto che questi profeti si fecero incontro a Saul allora lo Spirito di Dio lo investì chi investì? Saul ed egli si mise a profetizzare in mezzo a loro quello che Saul ha profetizzato noi non lo sappiamo e fino a quando rimarremo su questa terra non lo sapremo mai che cosa ha profetizzato Saul in quel momento. Un'altra conferma ce l'abbiamo sempre in prima Samuele al capitolo 10 al versetto 11 tutti quelli che lo avevano conosciuto prima lo videro profetizzare con i profeti e dicevano l'uno all'altro che è mai accaduto al figlio di Chis? Saul è anche lui tra i profeti? Ed ecco qua un'altra spiegazione che qua troviamo dei profeti senza nome e vediamo Saul che continua ancora a profetizzare ma non si sa cosa abbia mai profetizzato. E ancora in numeri al capitolo 11 versetto 25 e questo è molto interessante dice il Signore scese nella nuvola e parlò a Mosè prese dello spirito che era su di lui e lo mise sui settanta anziani e appena lo spirito si fu posato su di loro profetizzarono ma poi smisero. Chi sono questi settanta anziani? Non lo sapremo mai. Profetizzarono che cosa profetizzarono? Noi non lo sappiamo la Bibbia non ce lo dice e quindi è inutile è inutile come dire arrampicarsi sugli specchi dare delle spiegazioni o chi che sia ma andiamo avanti. Quindi come ho detto prima è inutile arrampicarsi sugli specchi solo perché apparentemente manca qualcosa e si pensa che la Bibbia contiene delle contraddizioni ma non è ancora finita perché come dice Bonolis ora entriamo nel gorgo è molto ricorrente nel giudaismo fra i Chachamim i Chachamim sono dei sapienti trovare significati e profezie nel testo basandosi sempre nel linguaggio originale quindi quello che io dico sempre a tutti i giovani che vogliono intraprendere lo studio biblico vogliono approfondire vogliono conoscere iniziate anche a studiare l'originale della parola di Dio cioè il testo ebraico e il testo in greco così vi potete rendere conto voi stessi che quando vi trovate in un'apparente contraddizione basta che uno va nelle lingue originali si risolve tutto ed è altresì ricorrente che gli ebrei hanno sempre avuto una tradizione orale andata persa per la maggior parte che ha tramandato un'infinità di profezie in particolare messianiche che ovviamente gli ebrei hanno avuto una grande accortezza di far sparire e lo dobbiamo dire questo perché come ben sappiamo gli ebrei non hanno mai accettato il signore Gesù quale messia poi ci sono anche degli ebrei che si sono convertiti ma la maggior parte insomma come sappiamo del giudaismo non non ha mai accettato diciamo il signore Gesù quale messia quindi quando attingiamo al linguaggio originale possiamo constatare una infinità di situazioni che si concretizzano dalla radice nazar dove andiamo a vedere in questo momento lo Strong uno dei dizionari più conosciuti e riconosciuto da delle commissioni di esperti a livello internazionale e quindi io mando adesso in questo momento il video ed eccoci qua carino il signore siamo appena entrati in questa meravigliosa applicazione si chiama Miss World Bible che potete scaricare gratuitamente su Play Store e ripeto questa applicazione è stata tratta da un dizionario conosciutissimo e riconosciuto soprattutto come abbiamo già detto prima da una commissione internazionale esperta di persone che hanno valutato questo libro come un dizionario praticamente autentico come potete vedere qua ci sono i vari le varie lingue per quando riguarda la parola di Dio abbiamo sia l'inglese abbiamo sia il nostro italiano e abbiamo un'altra volta in inglese giusto per spiegarvi e poi abbiamo i vari riferimenti dove potete notare ci sono praticamente per ogni parola il suo significato il suo strong praticamente ma non ci interessa questo ma dobbiamo andare praticamente al dizionario e vedere insieme al H 53 41 se non mi sbaglio eccoci qua nazar ovviamente questo è in inglese e lo andiamo tranquillamente a tradurre selezioniamo tutto andiamo su traduci e possiamo leggere con il nostro italiano significa custodire guardare vegliare mantenere guardare custodire mantenere preservare proteggere dai pericoli per mantenere osservare custodire con fedeltà custodire mantenere il segreto per essere tenuto vicino essere bloccato guardiano e poi abbiamo la nostra origine cioè nel senso è di origine una radice primitiva e andando avanti ci dà la definizione vera e propria dello strong che è una radice primitiva custodire come abbiamo già letto in senso buono proteggere mantenere obbedire oppure in certi casi anche cattivo nascondere eccetera assediato cosa nascosta tenere monumento osservare preservare ecco che cosa significa in sostanza nazar ed eccoci tornati al nostro messaggio audio da evidenziare il fatto che nazaret viene da nazar ora nazar è la vocalizzazione della radice ma se togli come deve essere le vocali e lasci la radice ti rimane n t z oppure ntz a questo punto lo puoi vocalizzare come ti pare e se si vocalizza con e più e ti viene nezzer quindi vediamo dunque il significato di questa parola nello strong bene canire e signore siamo ritornati qui nuovamente nel nostro strong e vogliamo come sempre evidenziare tradurre e tradurre in italiano quindi selezioniamo tutto andiamo a tradurre eccoci qua nezzer che vuol dire germogliare sparare ramo sempre in senso figurato è di origine giustamente al 53 41 come abbiamo già visto nel secondo video e nel senso del verde come colore sorprendente andiamo avanti definizione di strong da 53 41 nel senso di verde come colore sorprendente una ripresa figuratamente un discendente ramo quindi questa parola sta proprio a significare che questa definizione sta parlando proprio del nostro signore e salvatore Gesù Cristo guarda caso guarda caso uno dei passi messianici per eccellenza porta proprio questa radice la nun la zade e la resh in isaia al capitolo undici versetto uno dice poi un ramo uscirà dal tronco di sai e un rampollo spunterà dalle sue radici inoltre la radice ntz come le vocali a più a nazar significa anche come abbiamo già visto presen vare guardare custodire che troviamo nello strong 53 41 e infatti il messia è stato guardato preservato dalla morte pertanto il messia è stato preservato dalla corruzione e una ulteriore conferma su tutte la troviamo in atti al capitolo 2 al versetto 27 dove dice perché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione quindi le parole nazar nazaret e netzer radice germoglio ramo eccetera hanno la stessa radice pertanto è chiaro che lo scrittore matteo ha fatto un gioco di parole che è ben comprensibile nell'ebraico biblico e mai sarà comprensibile in una lingua diversa quindi se si è un profondo conoscitore di ebraico e greco biblico tutti questi problemi che si riscontrano nella nostra lingua madre non ci dovrebbero essere e se noti bene il signore Gesù ebbe a dire queste parole in luca al capitolo 23 al versetto 31 dove dice perché se fanno questo al legno verde che cosa sarà fatto al secco a cosa pensi che si riferisce il signore Gesù certamente alla radice nun zeta e resh sarebbe alla n alla t e alla zeta con tutte le possibili vocali che si possono aggiungere per formare le parole le quali in un contesto rigoroso non puoi fare come ti pare tolgono il velo ad un'apparente problematica e si stende solo per i ribelli io spero e sono convinto che in questa mia modesta spiegazione spero di essere stato abbastanza e sufficientemente chiaro shalom e che il signore ci benedica grandemente ci rivediamo sicuramente al nostro prossimo video programma ciao